Non bastassero il campo e la classifica, sono di nuovo le vicende della giustizia sportiva a infiammare la lotta per la permanenza in Serie B. Tirata in balla ancora una volta la Virtus Lanciano che non ci sta e alza la voce lamentando una palese disparita di trattamento. La restituzione di tre punti operata dalla Corte Federale d'Appello ha generato disappunto malcelato di altre società, su tutte proprio delle Livorno e del Presidente Spinelli. Ad appena una settimana di distanza dal verdetto d'Appello, ecco che dalla Procura Federale arriva la Virtus Lanciano un nuovo avviso di conclusione delle indagini. A breve dunque un altro deferimento cadrà sulla testa della società frentana. Procura che cerca di rimediare ad un errore commesso nel precedente deferimento, quando le omissioni amministrative erano state imputate all'amministratore Di Menno di Bucchianico, che però all'epoca di fatti era inibito per un precedente procedimento sportivo e quei documenti non era tenuto a firmarli. Lo era invece il DS Luca Leone, che finisce dunque coinvolto in questo procedimento. La Virtus rischia di essere penalizzata fino a due punti, ma il pool di legali punterà sul principio che una società non può essere processata due volte per la medesima violazione e, al massimo, in quest'ottica, potrebbe rischiare una sanzione il solo DS. Al di là della linea difensiva, la stizza della società della famiglia Maio è emersa dalla nota di ieri. Lascia interdetti l'inusuale celerità del trattamento che la giustizia sportiva ha riservato alla Virtus Lanciano e, dall'altra parte, il placido torpore utilizzato per le vicende che hanno visto protagonisti altri club di Serie B. Così recita il comunicato e il riferimento è all'inchiesta Treni del Gol, che ha portato alla retrocessione del Catania, che ha comprato partite, ma non vi sono tracce di procedimenti sportivi di quelle altre squadre coinvolte e i cui tesserati si sarebbero macchiati di comportamenti da illegito sportivo. Tra le squadre, due sono in lotta per la salvezza. Una è proprio il Livorno, l'altra il Latina. Di fronte alla mancanza di spiegazioni da parte delle istituzioni sportive, la Virtus Lanciano è pronta a presentare esposti alla Procura Federale, alla Federcalcio, al Coni e alla Lega di Serie B affinché anche questi procedimenti sportivi vengano prontamente istruiti e tutte le squadre in questione siano sottoposte alla giustizia sportiva. In questo clima si annuncia elettica l'Assemblea di Lega di Serie B di oggi, che potrebbe ratificare lo slittamento delle date dei play-out, 26 maggio e 2 giugno al momento, proprio per consentire la celebrazione del suddetto procedimento. Così come si annuncia ancora più infocata la gara del Picchi di venerdì sera, proprio tra Livorno e Virtus Lanciano, da Mors tua Vitamea. Ai giocatori di Maragliulo non resta che isolarsi da tutti questi contesti e trovare tutte le residue e energie per tentare l'impresa in uno stadio che va verso il tutto esaurito.